Le minacce sul fronte sud per quanto riguarda il terrorismo sono minacce molto importanti, molto significative, noi vogliamo, siamo impegnati anche sul fronte dell'immigrazione e anche dalla stessa immigrazione, potrebbero venire rischi e pericoli di foreign fighters che in questo quadro destabilizzato sia sul fronte medio orientale sia in alcune aree africane, nord africane potrebbero evidentemente arrivare queste minacce, questi pericoli, per cui siamo qui per ribadire queste posizioni, per rafforzare anche i nostri interessi e con i nostri interessi quelli di tutti gli alleati.